Mi pare un documento prezioso su cui riflettere e non solo limitatamente al fenomeno Lega Nord in Emilia, ma l'Emilia che si incontra andandola a trovare fino nelle sue profondità, parlando nelle piazze con le persone, sentendole ragionare a mente, a ruota libera, di questo la politica ha bisogno, ritrovare il pensiero che davvero attraversa i nostri cittadini, pensiero fatto di preoccupazioni, di bisogni e di esigenza. Ed è chiaro che per la politica è molto prezioso incrociare come la Lega Nord, che è un fenomeno della politica e dell'attualità, incrocia questa esigenza e come i partiti tradizionali, tra cui anche il PD, faticano invece ad interpretare questa nuova stagione della società e delle comunità, soprattutto dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna che sta conoscendo trasformazioni molto profonde, è una regione molto perosa, molto coesa, con un forte senso di comunità, che di fronte ad una crisi che non è solo una crisi economica, finanziaria o di lavoro, ma una crisi anche di identità, tenta con fatica di costruirsene una. E quindi mi pare davvero un lavoro di inchiesta giornalistica come si faceva una volta, di cui c'era assolutamente bisogno e che rappresenterà un contributo al dibattito della politica dei prossimi mesi.